Musica Cosa pensi del Cleto Festival? Beh, il Cleto Festival per me è la terza volta, terzo anno che mi trovo qui e a parte la collaborazione con la radio, con Radio Barrio, è davvero un piacere partecipare. Questo perché credo sia l'unico festival in Calabria che accomuna così tante arti e culture differenti appunto in un unico borgo che è appunto Cleto. Quest'anno il tema è davvero interessante, si chiama indifferenza, ovvero fare la differenza ed è, credo, un messaggio diretto soprattutto a noi, alle nuove generazioni, molto importante visto che in questo momento il mondo ha bisogno di fare la differenza, ha bisogno di cambiamento, ha bisogno di non omologarsi a tutto quello che lo sta veramente degenerando. E quindi io vi invito per stasera, vabbè, per il prossimo anno a partecipare al Cleto, al Cleto Festival perché tornerete a casa veramente con una ricchezza in più dentro di voi. Allora a questo punto salutiamo anche gli amici di Radio Barrio e chi ci ascolta. Sì, ciao a tutti, vi raccomando ascoltateci su www.radiobarrio.it, 24 ore su 24. Ciao! Grazie a tutti!